Innanzitutto che questa legge di bilancio è una legge di bilancio senza visione, senza anima, senza prospettiva, non tanto per i numeri, quanto per il fatto che dentro non ci sono riforme organiche che ci consentano di dire che il Paese nei prossimi anni migliorerà su alcuni indicatori che sono oggi di grande sofferenza. Penso al tema della sanità, ma penso anche al tema degli investimenti, che poi è direttamente collegato alla crescita. Quindi devo dire che il governo, che aveva un'ampia maggioranza, quindi ha anche la possibilità di avere una forza decisa, non è stato in grado per ora di garantire questa leadership e questa forza, e anzi si è accodato a una visione molto modesta di crescita e di prospettiva del Paese. Questo ovviamente è preoccupante. E l'altro aspetto che ho cercato di mettere in rilievo è che una parte di questa discussione così poco ambiziosa dipende anche dalla polarizzazione delle posizioni e dal fatto che spesso lo scontro è più ideologico che di merito. E questo ovviamente non riguarda la forza che esprimo, è una forza non ideologica e quindi diciamo che si colloca anche in modo il più possibile critico sulle varie questioni, ma senza pregiudizio, però è un limite della politica attuale. Occasioni come queste, ed è la ragione per la quale ringrazio il professor Giovannini, è il fatto che ci offrono condizioni per poter fare una discussione libera, serena e, ripeto, non pregiudiziale.